Questo è il nostro tributo ai prodigi, non so se li conoscete, se non li conoscete sono cazzi vostri, se li conoscete alzate le mani, alzate le mani se conoscete i prodigi, meno e mai che ce la sicurezza, ora guarda le colpe stasera bastanti, vorrei trappare, vorrei trappare io volevo fare un applauso a tutti voi, anche se adesso non ho la forza, fatevele un applauso perché siete i numeri uno, siete i numeri uno, noi non siamo, non siamo, non siamo qui a ballare di cha cha cha, non siamo qui a ballare della carta di musica, non siamo qui con la una maagnetta, sono un pinto di me, la conferma passiamo! L'istimo! Siamo! L'istimo! L'istimo! Vigilante, vigilante, vigilante. Hai donon? Diccheri, fatelo lavorare nel vostro luogo, 고민are la console, se non lavora troppo! Alessandro! Alessandro! Stai un bacchetto! E se ti vuoi bastarmi in razza, bastate col pericolo! Come dice troviamo così dal medico, andiamo a fare il cattivo fatto! Alessandro ci staggia! Ciacomo! Ciacomo! Bastardo! Ringraziamo e salutiamo Ciacomo! Un cazzo di applauso!